Presentato oggi nello storico Caffè Margherita di Viareggio, Hop Frog, futuro anteriore, una pagina di vita italiana degli anni 70. Nicolo Vitelli, viareggino doc, scrittore per passione, l'ha ressuscitata dall'oblio. Il locale era situato a due passi dal mare, lungo il canale Burlamacca. Al primo piano lo spazio si presentava come una discoteca, ma al di là della parete divisoria c'era un palchetto che da subito si riempì di giovani artisti destinati a segnare un'epoca. Quello storico Hop Frog fu gestito da Piero Torri. I suoi frequentatori erano persone di diversa estrazione, ma soprattutto decine di giovani studenti contestatori. Il punto di svolta fu quando Piero Torri aderì al nuovo progetto di trasformare il locale in un circolo arci. È un libro che rappresenta anche una memoria storica e un atto documentale e questo è già uno degli obiettivi che mi ero proposto, che abbiamo raggiunto. Ora Viareggio ha una memoria storica. L'importanza secondo me è in parte nella memoria storica, una memoria storica di un locale, una memoria storica di una generazione, anzi di generazioni, memoria storica di un'epoca, delle sue speranze e poi illusioni. E infine è anche non nostalgia, ma pone interrogativi importanti sul presente e sul futuro, cioè cosa oggi le case del popolo, cosa oggi una cultura progressista, cosa oggi la sinistra a livello politico. Ecco, in questo libro sono contenuti tutti questi aspetti e secondo me per questo è importante, perché fa ricordare e fa riflettere.